foto dell'anno abbracciatevi, mettete questi daviti in mostra vateli vedere vateli bene vateli bene vateli a sfatate qui piano l'unico zingaro che vuole marroma grande mi dici mi avete fatto con me guarda, grazie nel film è Vincenzo, qua è finita pari ragazzi posso fare un po' di in mezzo a voi? posso eccolo no, finalmente il gold rack della situazione dopo la diretta ne approfitta mo tutti se vanno papo mo c'è la fila, il bietto, il ticket ma poi c'è una ragazza il nuovo che lavora poco grazie 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 grazie